Nell'undicesima giornata del campionato di promozione Girone B alla Brili Peri arriva la retrocessa Chiusi che malgrado abbia mantenuto tutta la rosa della stagione di eccellenza ha avuto grossi problemi di adattamento alla categoria e adesso staziona in classifica troppo lontana dalla salvezza ma comunque sufficientemente lontana anche dalla retrocessione Formazione bianco-rossa di Mr. Fratini che viene da un pareggio casalingo contro il Grassina che ha comunque smosso la classifica Aquila che torna per la seconda volta a Brili Peri con la guida Rigucci e con la voglia di ottenere la prima vittoria dopo il cambio panchina Rosso Black confermano Pellegrino esterno con Pasquini in una difesa a quattro con i centrali esperti come Bartolozzi e Bartoli corsi davanti alla difesa dal regista del gioco Aquilotto con Rossi e Sguera a cercare di servire Mori in profondità Questa è la formazione e la filosofia Rigucci che settimana ha già fatto le sue richieste alla società che si è già mossa sul mercato per un attaccante con caratteristiche di realizzatore già identificato in una vecchia conoscenza dello stesso allenatore e forse anche un difensore Lui si apre la finestra di mercato e le ufficializzazioni arriveranno direttamente dalla dirigenza Rosso Blè Direzione di gara fidata al signor Landucci di Pisa e con le riprese di Gianni Marziali andiamo a rivivere i momenti salienti 15esimo minuto, Daveri serve Mori in uno spazio perfetto per il numero 11 che in area scarica il destro ma Lancini respinge, Sguera in corsa, spara alto Daveri per Mori, Mori il tiro e la parata Attenzione Sguera! 23esimo minuto, Don Garrà lasciato manovrare, da 30 metri prova la conclusione, Bobini si distende e mette in angolo Aquila che tiene il gioco in mano ma non trova lo spunto vincente e al 34esimo ci prova dalla distanza da Veri ma la sua conclusione è di poco fuori Infortunio muscolare a Pellegrino che porta a cambiare giocatore e disposizione in campo Misteri Gucci inserisce Ezechielli e passa al 3-5-3 porta subito pericolosità con l'azione ben architettata dove Sguera dalla distanza mette di poco fuori Primo tempo non bello ma cambio di modulo che ci auguriamo porti incisività nella fase realizzativa Al quarto minuto Mannella va in slalom e poi serve un pallone d'oro per Rossi che sbaglia mettendo sull'esterno della rete Mannella prova ad andare centralmente, va in azione personale, tiene palla bello per la conclusione di Rossi, sull'esterno mamma mia 12esimo minuto Rossi interviene fallosamente e vede il secondo giallo e quindi per 32 minuti la formazione Aquilotta giocherà in infernità numerica in 10 uomini per la seconda volta consecutiva 15esimo minuto Daveri fa tutto bene sul fondo, serve indietro Corsi che mette fuori un pallone d'oro 38esimo minuto, corner di Dongarrà e Belardinelli per poco, non beffero Soble interviene Bobini e poi subisce anche fallo 42esimo minuto Daveri in profondità per Mori che viene fermato dalla bandierina, alle immagini il giudizio Terzo pareggio consecutivo per 0-0 della gestione Rigucci che adesso aspetta il mercato che però non potrà essere il medicinale che risolverà la scarsa incisività in fase realizzativa Domenica poi c'è da pensare anche al derby con l'Arno Laterina Atos Rigucci un pareggio, il terzo della sua panchina, un pareggio che ricopia forse le altre gare almeno io ne ho viste due di questi tre pareggi però bisogna trovare la via del gol perché dal punto di vista della creazione delle azioni c'è tutto a posto Allora Marciano non mi era piaciuta la gara perché le altre due sono state diciamo increscendo si nota una grossa paura e tensione nei ragazzi perché manca da troppo tempo questa vittoria il pallone diventa peso e sanno giocare meglio perché siamo stati anche oggi molto lenti nella manovra abbiamo paura, spesso facciamo il compitino quindi non è una cosa di personalità è proprio una cosa di tensione però insomma anche oggi abbiamo avuto due grosse occasioni Mori e Rossi che per sfortuna perché loro sicuramente avrebbero dovuto fare gol quindi e dare una gioia ai tifosi invece anche per oggi senza subire penso un tiro in porta forse per tempo non abbiamo dato la sensazione di poter far male sempre alla squadra anche giocando un buon calcio ma questo non ci interessa più ora 12 mesi 12esimo del secondo tempo un'espulsione fino a quel momento a giocare a tre in difesa portando su Pasquini forse era quella la chiave di lettura non poter continuare a giocare così può essere stata un'altra motivazione per il Corri non c'è stata la vittoria oggi può darsi sai il cambio modulo a volte può aiutare a volte no non si cambiano così ci stiamo lavorando in un'altra settimana ci prepariamo per poter eventualmente andarci dall'inizio però in corsa abbiamo cambiato stavamo facendo bene avevamo partito bene però dopo abbiamo dovuto ricorrere ai pari e niente quindi la pari è finita 0-0 non abbiamo subito gol quindi non è poco vuol dire che la squadra non solo la difesa ma la squadra sta bene in campo ma noi vogliamo vincere per noi e soprattutto per i tifosi che sempre più numerosi ci sono e per questo mi dispiace veramente domani si apre il mercato di riparazione ha già fatto le sue richieste sappiamo già probabilmente chi arriverà però non credo sia l'unica medicina bisogna trovare anche qualcos'altro perché non credo poi ci bisognerebbe comprare un po' di fortuna se possiamo ma la fortuna aiuta gli adaci va trovata quindi i ragazzi devono stare sereni e spingere sull'acceleratore a mille poi se riusciamo a mettere a posto qualche cosina sono convinto che daremo noia e forse di più Francesco Pasquini un altro pareggio contro una formazione indubbiamente vengono sempre qua per chiudersi però insomma ci vuole adesso i tre punti e non penso che solo il mercato di riparazione possa essere l'unica medicina no sicuramente oggi sta una partita comunque contro una buona squadra una squadra comunque attrezzata bene è venuta qui nei primi minuti anche per giocarsela magari insomma già una palla a terra poi via via sono chiusi noi abbiamo preso campo abbiamo fatto la prestazione perché quella non è mancata non è mancato l'impegno sicuramente è mancato un po' di cattiveria nella fase offensiva ma quello è dal portiere all'attaccante questa è una cosa proprio di squadra dove dobbiamo lavorare sicuramente con il mister lavoreremo per migliorare e perché l'unica medicina comunque adesso è una vittoria quindi lavoreremo già da martedì per prepararci per andare a laterina a fare una grande partita dal 12esimo minuto e ancora un'altra volta in 10 fino a quel momento avete provato a giocare con la difesa 3 tu sei risalito di azione forse era quella la chiave di lettura però dopo in 10 avete dovuto ripiegare tutto in altro modo beh sì il mister in primo tempo ha cambiato il modulo perché comunque domenica con l'antella con la difesa 3 avevamo andati bene quindi ha deciso insomma di cambiare il modulo poi niente purtroppo dopo l'espulsione è stato rivoluzionato un'altra volta in modulo perché comunque c'è da adattarsi alla situazione e quindi niente siamo ritornati a difesa 4 però ripeto non è mancata insomma la spinta e la continuità di tutti per andare a prendere i risultati Com'è il morale Francesco negli spugnatori? No sicuramente il morale come ho detto prima la medicina migliore è la vittoria però noi siamo consapevoli delle nostre capacità delle nostre qualità e lavoriamo sempre al massimo al 100% per questa maglia e niente come ho detto l'unica medicina è la vittoria dobbiamo andare a prenderci a tutti i costi Mister Frattini un pareggio tutto sommato insomma sul campo del Briliperi positivo anche perché ho visto anche qualche defezione allevate insomma quest'oggi Sì ne avevamo ripeto qualcuna importante ecco domenica ci è successa una situazione un po' particolare abbiamo avuto 4 infortunati su una partita siamo rimasti in 10 domenica perché 4 persone contemporaneamente poi con la New York si è fermata anche un altro quindi non avevamo in pratica difensori e avevamo messo i centrocampisti in difesa e gli esterni in mezzo al campo quindi diciamo qualche difficoltà c'era e soprattutto mancando 4 fuori quota in contemporanea abbiamo fatto giocare i ragazzi soprattutto uno che si è allenato solo una volta con noi e oggi è venuto a giocare quindi anche sul piano della tenuta fisica del ritmo anche se con impegno niente da dire nel secondo tempo anche se con un uomo in più eravamo un pochettino stanchi e soprattutto non avevamo in mezzo al campo l'uomo che facesse correre il Montevarchi e ci facesse sfruttare questo uomo in più Chiusi in retrocessa ma ha avuto un po' di difficoltà ad adattarsi alla categoria poi insomma adesso forse ha trovato il passo giusto adesso stiamo facendo un pochettino meglio diciamo ultimamente purtroppo abbiamo perso tantissimi punti perché negli ultimi 5 minuti per esempio avremmo perso 10 punti sempre o su calcio d'angolo o su calcio piazzato è una lacuna che abbiamo probabilmente all'inizio anche io mi dovevo un po' adattare alla categoria perché insomma ogni categoria ha il suo modo di giocare le sue coordinate diciamo così forse inizialmente anche io mi dovevo adattare adesso mi sono un po' calato nella realtà meglio e la squadra riesce a seguirmi meglio e stiamo facendo meglio insomma